guarda Marcella cavoli come mi piacerebbe vivere lì è un sogno anche a me piacerebbe tantissimo e sono sicura che anche a te che stai guardando piacerebbe tantissimo pensa che la civiltà contadina soprattutto qua in Italia ce l'abbiamo nel sangue ce l'abbiamo in quello che chiama l'inconscio collettivo abbiamo vissuto per tanti anni in corti in famiglie allargate con la presenza di animali con la capacità di riconoscere piante con le mani in pasta le mani che lavorano il corpo che che accompagna le stagioni della terra facendo diverse attività e questo in qualche modo ci manca ci manca vivere insieme ci manca l'essere in contatto con gli animali ci manca fare lavoro fisico e avere chiare quali sono i cicli della vita da dove viene il cibo che mangiamo e vedere il frutto del nostro lavoro questo è quello che possiamo cercare di ricrearci anche in modo artigianale nelle nostre vite creandoci delle famiglie d'elezione dei gruppi di persone magari non viviamo insieme ma con cui condividiamo idee ideali gusti visioni della vita e cercare di fare attività col corpo usarlo questo meraviglioso strumento più che strumento questo meraviglioso addensamento di quella che è la nostra anima siamo qui per vivere pienamente ciò che siamo anche col corpo grazie a questo corpo che ha delle capacità incredibili di sentire di tradurre in sensazioni colori profumi suoni forme c'è così tanto di bello in questo pianeta in questa esperienza della vita che abbiamo la possibilità di vivere godiamocelo grazie a tutti